Che siano chiari oscuri poco importa, anche gli occhi vanno protetti dal sole e dal gran caldo di questi giorni che può provocare problemi alla vista. A parlarne al TG8 il dottor Rodolfo Mastropasqua, professore ordinario di malattie dell'apparato visivo dell'Università d'Annunzio di Chieti. Il gran caldo può creare problematiche sia anatomiche dell'occhio che visive. Il motivo è perché, come tutto il nostro corpo suda, anche l'occhio si disidrata e quindi c'è un rischio nettamente aumentato nelle stagioni estive di distacco della retina. Questo è un problema che poi ha bisogno di interventi chirurgici immediati, quindi bisogna cercare di prevenire. Prevenire vuol dire bere molta acqua, due litri d'acqua al giorno, per cercare di tenere idratato il corpo e anche quindi la struttura interna dell'occhio ed evitare che si crei questo tipo di problematica che è il distacco di retina. Ci si accorge del distacco della retina? Ci sono dei segnali da non sottovalutare? Assolutamente sì. Il distacco di retina si presenta tipicamente con flash, come macchina fotografica, o con una tenda nera all'interno del campo visivo. In quel caso bisogna rivolgersi immediatamente a un pronto soccorso oculistico. Come si protegge invece l'occhio? Perché spesso pensiamo di proteggere sicuramente la nostra pelle quando ci esponiamo al sole, ma con l'occhio poi non ci pensiamo quasi mai. È vero. Dunque, come si protegge la cute con creme che proteggono dai raggi ultravioletti? Bisogna proteggere gli occhi perché i raggi ultravioletti possono far peggiorare condizioni maculari, come la degenerazione maculare senile, quindi bisogna portare occhiali al sole quando c'è il sole per cercare di evitare danno da raggi UV. Il caldo, tra l'altro, deve essere prevenuto utilizzando lacrime artificiali perché può peggiorare la secchezza oculare di cui affetta una gran parte della popolazione. Nei bambini e negli anziani cambia qualcosa o i consigli sono sempre gli stessi? I consigli in linea di massima sono gli stessi. Chiaramente gli anziani sono più a rischio di avere già un'iniziale degenerazione maculare, quindi proteggere la macula con occhiali da sole sicuramente è maggiormente indicato nei confronti degli anziani. Ci sono consigli utili anche sull'alimentazione? Come il cibo può aiutare a far stare un occhio più in salute? Sicuramente conviene utilizzare quella serie di sostanze che possono reintegrare i nostri, si chiamano elettroliti, cioè quello che nelle stagioni calde viene a mancare a causa della disidratazione. Quindi tutti alimenti e bevande a base di magnesio, potassio o stessi integratori possono essere molto utili non solo per la condizione generale del nostro fisico ma anche per i nostri occhi. La carota fa bene alla vista, è vero o è una leggenda? No, no, è sempre assolutamente indicato perché va a reintegrare determinate strutture della nostra retina e data la presenza di vitamina A nelle carote. Occhi chiari, occhi scuri, sono più deboli gli occhi chiari come si dice? I pazienti con occhi chiari sono quelli che possono essere più soggetti a danno da raggi ultravioletti o riverbero della luce, quindi certamente in particolare in questi casi ma in generale in tutti conviene proteggersi dei raggiugli con occhiali da sole.